Il cane di fuori, ti faccio l'ultimo video, allora dunque ti voglio parlare di concessioni baleari Bolkestein, riforma concessioni baleari riguarderà il DDL liberalizzazioni, cos'è? Liberalizzazioni vuol dire, vabbè, draghi vuol fare sta cosa, però ancora siamo sulle salbie mobili perché è ovvio che ci saranno le aste, perché lo vuole il Consiglio di Stato, c'è una sentenza della comunità europea, te la faccio breve nel 2024 nota bene ne parliamo da 20 anni di quest'annosa questione, bene però qua c'è un problema innanzitutto la liberalizzazione deve anche favorire i ceti più bassi, i ceti più umili, per esempio prendo reddito di cittadinanza o diritto a una spiaggia te la dico breve, magari a scadenza invece no, perché? I subentranti dovranno pagarla comunque questa spiaggia e sarà pagata a valore di mercato, cioè una spiaggia Rimini-Riccione che vale, rende 100-200 mila euro a stagione, 300 100 mila euro a stagione, secondo voi è una notizia pubblica, perché viene diciamo il plico delle aste viene pubblicato in gazzetta ufficiale, quindi tutti lo sanno, si presenteranno grandi capitali che acquisteranno con una sorta di joint venture tutte le spiagge, quindi la povera gente la liberalizzazione è per tutti non è solo per i ricchi quindi il prezzo di mercato cioè, le spiaggia sono un boccone prelibato per i grandi capitali, per i fondi di investimento che non sanno come mettere i soldi mi vengono in mente i fondi di investimento americani cinesi, no? questi non sanno dove sbattersi o le grandi catene alberghiere quindi sarà comunque, cioè la Georgia non ha tutti i torchi è un favore alle multinazionali cioè, l'azienda familiare verrà meno ma io sono anche d'accordo a fare in modo che le aziende poi dopo c'è il diritto di prelazione perché, attenzione potrebbe anche succedere che i bagnini abbiano un diritto di prelazione c'è l'avviamento c'è l'evidenza pubblica quindi ci sarà una commissione che stabilirà se quello stabilimento lì deve andare all'asta o il bagnino precedente che magari ha fatto degli investimenti perché nella bol che c'è scritto che se hai fatto degli investimenti hai maturato una sorta di esclusiva di prelazione ok? se magari, come si dice se c'è un progetto imprenditoriale no? perché ormai la sua memoria la delibera qui però è tutto un favore ti ripeto io mi presento all'asta prendo il reddito di cittadinanza cosa pensi? che una spiaggia a piazzale Kennedy a Rimini a Marina Centro o la pago un euro? la pagherò a volore di mercato quindi molto probabile che arrivi al milione di euro o comunque in una cifra più bassa perché poi c'è da dire allora adesso i bagnini puntano all'indennizzo perché sanno già che la spiaggia la loro spiaggia andrà all'asta cosa vuol dire? quelli che la perderanno cioè quelli che non hanno fatto investimenti poi dopo c'è addirittura la maturità cioè se sei stato molto tempo puoi avere una prelazione sulla spiaggia cioè è una roba che ancora è tutta a gambe all'aria ok? perché bisogna vedere come si applica ok? questa normativa quindi molti perversi la ricompreranno ok? la spiaggia altri cosa sì perché tanto hanno dei milioni in banca che le frega altri cosa faranno? altri cosa faranno? e la venderanno venderanno la loro spiaggia allo Stato che deve riconoscere un indennizzo però loro puntano al riconoscimento in base ai metri quadri ma è una cioè prendono dei milioni cioè è un affare per i bagnini a questo punto la Bolkestein perché se c'hai un bagnino da 200 metri quadri a 2000 euro valore catastale cioè 2000 euro al metro non è niente per Rimini zona mare ok? 2000 euro al metro sono già mezzo milione quindi tu esci bello sorrione con tutti i milioni che hai guadagnato non pagando nulla di concessione più mezzo milione in più ok? questo è un po' il calcolo che dovete fare quindi non è tutto rose e fiori questa Bolkestein vediamo cosa succede ma la povera gente ci perde sempre cioè è tutto un calcolo fatto per le multinazionali tanto la spiaggia nelle zone sperdute non la vuole nessuno anche adesso anche se te la vendono ti chiedono 5000 euro un mosconaio ti chiedono 10.000 euro perché una cosa che non rende niente non vale niente comunque Bolkestein o no non vale niente